La Regione Toscana si mobilita contro Italia gli incentivi sulle energie rinnovabili ventilati dal Governo Monti. Come spiegato dal Governatore Enrico Rossi e dal Parlamentare del PD Ermete Realacci, nella nostra Regione le aziende che stanno investendo in tecnologie e prodotti della Green Economy sono 26.000, un quarto del numero complessivo e non necessariamente legate soltanto alle rinnovabili e al ciclo dei rifiuti. Ci sono casi di riconversione in chiave eco-compatibile di produzioni tradizionali, una realtà faticosamente costruita nel corso degli anni e ora messa a repentaglio da incertezze normative e di finanziamento. Due le richieste principali avanzate dal Governo, dalla Toscana. Che si riconfermino gli standard europei di sostegno a questo settore, che è un settore importante per l'economia dell'Italia e della Toscana, e poi chiediamo anche che si riconfermi quella legge Bersani che prevede per gli interventi fatti nelle case la possibilità degli sgravi fiscali fino al 55% della spesa, che hanno aiutato molto a fare coibentazioni, interventi di risparmio energetico. Sono circolate alcune bozze, alcune anche su carta intestata dell'Enel, quindi si capisce anche qual era l'interesse che doveva essere tutelato, che francamente sono penalizzanti per il settore delle rinnovabili. È giusto ridurre gli incentivi, è giusto accompagnare tutto questo settore verso un pieno ingresso nel mercato, ma non bisogna strangolarlo. L'assessore regionale all'ambiente, Anna Rita Bramerini, ha inoltre ricordato che sulla base dei nuovi obiettivi stabiliti dalla conferenza Stato-Regioni, entro il 2015 la Toscana dovrebbe raddoppiare le sue attuali capacità di produrre energia rinnovabile. In caso contrario rischia il commissariamento. Attualmente sono al baglio della regione 50 richieste per l'apertura di nuove imprese per la produzione di rinnovabili.